di una traccia che ho registrato ieri, di quell'ultima che ho registrato ma proprio da come inizia? da come inizia e poi me la tolgo, sto più a quattro quarti però aspetta un attimo che stanno salendo da un momento perché quando pare la voglio, io una volta la faccio sentire e poi la diretta non la salvo no cap, no tabao, no tabao 5.000, 5.000 andiamo dai io n***o vai vai anzi fai un culi follo e parti vai è che è stato vero, davvero 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 ma che la lì fino alla cassa la mia gappa è sempre dirti, per costa ne prende mezzo ti finesso con lo stick basta bro, questo è ira chi se l'ha visto se l'ha visto chi non se l'ha visto suck my dick let's go, you know